Bene, ciao ragazzi, come vi avevo promesso avrei risposto ad altre vostre domande, visto che sono moltissime e singolarmente mi dovete anche scusare, anche volendo non riuscirei a farlo e se lo facessi risponderei solo ad alcuni di voi creando così amici di serie B e amici di serie A e invece facendo così cerchiamo, dico cerchiamo perché c'è Mara che mi aiuta moltissimo in questo, anzi direi che il grosso del lavoro nel raccogliere le domande lo fa proprio lei. Oggi cercherò di rispondere ad alcune domande visto che si ripetono frequentemente anche a distanza di breve tempo, è un insistere su questo, per quanto posso e per quanto sia possibile a distanza senza conoscervi personalmente insomma. Ci tengo particolarmente perché alcune di queste domande sono anche abbastanza tecniche, nel senso che io mi metto nei panni di chi le sta facendo, credetemi tante persone per arrivare poi alle stesse domande. E allora io ritengo anche importante, per quello che posso, per l'aiuto che posso darvi, cercare di portarvi dalla mia esperienza, che non è la verità, è la mia esperienza, portarvi, come dire, dei consigli in questo caso richiesti, altrimenti io non do consigli normalmente se non sono richiesti e non mi permetterei mai di farlo, troppe teorie, tecniche, troppe cose. Quindi quando parlerò e quando vi darò le mie risposte in questo caso saranno solo dettate da quella che è la mia 42-ennale, 45-ennale esperienza. Non prendeteli sotto gamba, non perché sono io a dirlo, è perché insite in queste risposte che io vi do ci sono anche un sacco di errori che io ho commesso e che rispondendo ora a voi cercherò di farvi evitare. A volte possono essere periodi molto lunghi o anni di tempo perso nel tentativo di imbroccare poi, di mettere a punto quella che sarà la nostra tecnica che ci accompagnerà nei percorsi più di soddisfazione, insomma, o meno, spero di sì, spero di soddisfazione. Allora, Mara, se vuoi, intanto vi presenti, va bene, non c'è bisogno che la presenti, mi fa da gobbo. Allora, lei ha le domande che è riuscita a raccogliere in questo periodo, dall'ultima volta, che lo so, lo so che tanto è il tempo che è passato, però ha le domande raccolti in sintesi le più fondamentali, cioè quelle che mi fate più spesso, non le più fondamentali, quelle che mi fate più spesso e dalle sue domande io partirò con un'espressione di quello che può essere un consiglio oppure una serie di cose da mettere a punto. Va bene? Dai, cominciamo. Ciao a tutti ragazzi. Allora, la prima cosa che vi devo dire è che io sì, ho raccolto tutte le domande, però le divido anche per argomento, perché altrimenti saltiamo di palo in frasca, per cui oggi le ho su un argomento, il prossimo video raggruppo quelle similari su un altro e così via, altrimenti non ne esco più io e capite poco voi. Allora, iniziamo con la prima che è, vediamo se riesco a rileggermele, i consigli su come periodizzare un eventuale periodo, scusate il giro di parole, medio-lungo, quindi un atleta che non ha una data, agonistica in programma, però cerca sempre il miglioramento, come può periodizzare in maniera generica sui 6-12 mesi. Quindi sul breve, sul medio-lungo periodo. Allora, partiamo da un presupposto che chi mi fa questa domanda, chi voi che mi fate questa domanda, le persone che mi hanno fatto questa domanda, siano persone che già si allenano, perché altrimenti dovremmo partire da zero. Non credo sia il caso che questo lo chiediate a me. In altra sede vi ho già detto che se siete all'inizio e volete fare questa attività dovete, io vi consiglio di rivolgervi al vostro istruttore di sala che almeno vi faccia sapere di cosa stiamo parlando. Allora, io partirò da chi, presupponendo che voi abbiate già un vostro background, insomma una vostra esperienza. D'accordo? E sempre, sempre riguardo a quanto io posso dire, cioè con le mie tecniche, con quello che ho provato, cerchiamo di buttare uno schema che è evidente, che sia generico, perché io non credo a un periodo, cioè io non credo a una tecnica che va bene per tutti. Io credo invece che sulla personalizzazione, e voi questo lo sapete perché ve lo dico ad ogni incontro. E quindi cercherò di fare una cosa standard che possa essere di aiuto per chi non è molto ferrato e che possa magari toccare anche chi ha già qualche esperienza e vuole provare, cambiare e vedere cosa succede soprattutto. Allora, da sempre la periodizzazione dell'allenamento è un tema che vedo scritto ovunque, vedo trattato da chiunque, con fasi anche sconcertanti, a volte c'è delle cose che non stanno nessuna parte, fisiologicamente parlando. Però, se questo portasse a dei risultati tangibili, io non avrei nulla da dire, questo sia chiaro. Vi porto solo quindi la mia esperienza. Una periodizzazione. Partiamo ad esempio dal punto A, che è quando possiamo decidere di iniziare questo periodo, e per arrivare poi a un punto B, che non è ancora il momento del pre-gara, se qualcuno fosse agonista, del pre-contest, ma di una ottimizzazione della forma. Quindi parto da un punto A dove mi sto regolarmente allenando perché ho trovato il mio sistema, eccetera, eccetera. voglio provare a periodizzare e arrivando dal punto A al punto B, quando sarò al punto B io dovrò avere dei risultati, se non altro a livello di volumi e anche qualche chilo di peso corporeo. Non moltissimi perché non credo agli incrementi di 10-20 kg alla volta, non ci credo proprio perché sono destinati come sono venuti a sparire, quindi è meglio prenderne 2-1-2, ma che rimangano poi. E quindi partiamo da un periodo A. Ipotesi. Facciamo un periodo non di 12, perché di 12 dovrei avere già il soggetto sotto mano, in visione. Quindi partiamo da un periodo A di 6 mesi, che si propone di arrivare a un B dopo 6 mesi. Quindi abbiamo eventualmente un ciclo di tre cicli. Nel ciclo da A a B abbiamo tre cicli. A1, A2, B, Ketaz. Ok? Questo ciclo si potrebbe anche ripetere. Se l'atleta osserva, se il praticante osserva ciò che osserva dei risultati che possono sembrare, o che sono, non sembrare, non devono sembrare, devono essere, che sono soddisfacenti, potrebbe anche pensare di riproporre il ciclo un, due o tre o più volte. L'importante è riuscire ogni volta ad aumentare o le ripetizioni o il carico. Adesso ne parliamo. Allora, partiamo dal punto A. C'è un'atleta che si allena regolarmente e dice adesso io voglio mettere in piedi uno schema dove ho una periodizzazione riguardo ai carichi, le ripetizioni, le serie, le volte, i gruppi da allenare, eccetera eccetera. Voi sapete ormai fino alla nausea che uno dei miei punti di forza, che sono stati i punti di forza quando ero al top, insomma, era quello di ripetere il gruppo muscolare almeno due volte a settimana. Quindi, se andremo ad apportare delle varianti nei vari periodi, le apporteremo per quanto riguarda serie ripetizioni e recuperi, ma non certamente sull'andare a allenare il gruppo. Perché il gruppo, secondo me, per un BB deve essere toccato almeno due volte a settimana. Almeno fino a che non riusciamo ad avere delle masse sufficienti, quindi uno sviluppo sufficiente, che ci permetta ogni tanto di allenare una volta a settimana, ma ogni tanto, non come regola. Bene, partiamo. Il primo ciclo, chiamiamolo A1, quindi, lo sto facendo per semplificare a me sulla carta mentre ve lo dico, per poi non farmi confusione. La A1 potrebbe essere un ciclo che dice che i gruppi grossi, quali sono i gruppi grossi? I gruppi grossi sono tutti, a parte, bicipiti e tricipiti, da considerarsi gruppi piccoli. Quindi, gruppi grossi, gruppi grossi, noi nel primo ciclo andremo a toccarli con una ventina di serie, con 12-15 ripetizioni, è un tempo di recupero che varia dai 60 secondi ai 120 solo per lo squat. Cioè i 120 secondi sono da considerarsi un recupero abile solo per lo squat, perché è un esercizio che sequestra un sacco di ossigeno e implica un sacco di muscoli nel suo movimento. quindi ha bisogno di un recupero più lungo. Anche perché non riusciremo ad affrontare la seconda serie con un carico e delle ripetizioni dignitose. Quindi, quante serie faremo? 20 abbiamo detto. Quanti esercizi? Scegliamone 4. Benissimo. E quando parlo di gambe, parlo di gambe anteriori, quindi di quattricipite. Più, quindi, per le gambe, esempio, e questo è sempre un esempio, facciamo 8, 15, anche 20 serie di posteriori, che possono essere stacchi con gambe tese o semitese, che possono essere dei car coricati o in piedi e chi comunque ha già avuto possibilità di allenarsi saprà quali esercizi scegliere per avere il massimo dell'ottimizzazione, dell'allenamento, insomma. Consiglio vivamente, per chi si lo può permettere, problemi da schiena parlando, di non togliere mai quelli che possono essere i mezzi stacchi a gambe tese e gli esercizi di base, quindi i car coricati. Consiglio di non togliere questi esercizi di base. Allora, in questo senso potremmo, ripeto, fare il primo periodo che potrebbe essere di due mesi, in questo ciclo di sei ipotetico, di due mesi, con i gruppi grossi 20 serie, 12-15 ripetizioni, dipende da quanto siete allenati. Un recupero, e dipende da quanto siete allenati, se non ce la fate dovete arrivarci, o tentatevi, provateci almeno, di 60 secondi massimo, ma vedrete che se siete allenati riuscite anche a fare con meno, pur usando dei carichi notevoli. Ecco una cosa, ricorda più male di ricordare i carichi, perché è una cosa che dimentico sempre. E per lo squat, invece, che è un esercizio molto impegnativo, anche 120-150 secondi, dipende dai carichi che avete sul bilanciere. Per i gruppi piccoli, invece, quindi bicipiti e tricipiti, possiamo tranquillamente fermarci se fatti bene, se percepiti, se c'è proprio cessione nel movimento e se siete tanto così più in là di uno che si allena e basta, insomma, vi consiglio di stare sulle 12-15 ripetizioni, dipende dal soggetto, per un totale di 12-15 serie, anche 12-15 ripetizioni, il tempo di recupero mi rimane di 60 secondi. Massimo, massimo. Quindi, passiamo ad un eventuale programma di A2, quindi i successivi due mesi. A questo punto possiamo, se non siamo novizi, e ripeto, questo non è una proposta per un novizio, per una persona insomma che si allena da poco, i successivi due mesi rispetto alla A1, siamo nel programma A2, sono quelli di tentare di aumentare un attimino sia la forza che il carico, senza ricorrere a programmi da powerlifter, che io non denigro, anzi, se qualcuno intanto volesse lo fare, non gli farebbe altro che bene, però a questo punto si deve mettere in mano di un buon powerlifter, perché io non mi sono mai occupato di powerlifting e questo va detto. Sono allenamenti completamente diversi e tempi di recupero completamente diversi, ve lo devo dire. Quindi i successivi due mesi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il programma che stiamo ipotizzando, tenteranno di aggiungere ancora qualche chilo, pur rinunciando a qualche ripetizione. Allora, ipotesi come prima. Gruppi grossi, che sono tutti, abbiamo detto lì fuori dei bicipiti e trecipite, i gruppi grossi potrebbero essere limitati a diciotto, diciotto serie, sedici, diciotto serie, quindi quattro esercizi, sempre, invece di farne cinque, ne facciamo quattro di serie, quindi per quattro, per quattro, sedici, o poi facciamo magari, non contiamo mai i riscaldamenti, che sono una serie o due, e il defaticamento e il pumping finale non lo contiamo, perché comunque è un'altra serie o due, anche lì ci si sta. I tempi di recupero questa volta li alziamo, li portiamo a 90 secondi e dobbiamo farci di tutti questi 90 secondi, perché saranno la differenza tra una serie e l'altra nel poter caricare un qualche chilo in più rispetto al programma dell'A1 che abbiamo ipotizzato. Per i gruppi piccoli, invece, io direi di fermarci sulle dieci serie, da dodici ripetizioni, tempo di recupero, anche qui, se riusciamo, se riusciamo a farlo, perché non abbiamo epicondeliti o tendiniti varie sul bicipite o epicondeliti che ci inibiscono a livello del tricipite, riusciamo comunque a tenere 90 secondi, anche qui, cercando di aumentare il carico. Ecco, è l'unica variante che vi lascio fare, che vi propongo di fare, insomma, poi fate quello che volete. Tra questi due sistemi c'è un mare di altre cose che ognuno di voi potrà adattarsi e io da qui non posso sapere, ma per onestà non vi posso dare un programma dicendovi, un programma, un'indicazione dicendovi è così, genericamente è così. Quindi, poi, ad ognuno sta il buon senso di soggettare, insomma, il sistema a se stesso, alle sue risposte, al suo papisogno, al suo metabolismo anche. E quindi, nella prima fase abbiamo detto, per i gruppi grossi, abbiamo una ventina di serie, da dodici, quindici ripetizioni, un recupero che varia dai 60 secondi ai 60 secondi, vi sto dando dei tempi un po' larghi, perché non è sempre così, a volte sono meno, a volte devono essere di più, perché il carico è veramente grosso. E per le gambe, invece, rimangono i 120 secondi. Regola che vale anche per la fase A2, quindi fatevi uno schema A1, ve l'ho detto qual è, la 2 è questa, gruppi grossi 16-18 serie, sui 90 secondi, minuto e mezzo, gruppi piccoli 10-12 ripetizioni, le serie rimangono per i gruppi grossi, 18-16 abbiamo detto, per i gruppi piccoli 10-12, e le ripetizioni rimangono per i gruppi grossi nella A2, le ripetizioni rimangono 10-8-10, per i gruppi piccoli la stessa cosa, ok? Quindi meno serie, meno ripetizioni, più tempo di recupero, calichi maggiori, perché andiamo a cercare questo. Per poi trovarci, le gambe hanno lo stesso trattamento, qui si può stare sui 120-150 secondi, se i carichi sono notevoli. È necessario, vedrete da soli, che non vi sto raccontando una bazelletta, se necessitate a volte anche di qualche secondo in più. Nella terza fase invece, sempre questa ipotetica terza fase, noi andiamo a recuperare quello che è la vera old school, il vero programma che io ho sposato e che mantenevo poi alla fine per tutto l'anno, a parte brevissimi periodi, che è la parte B. Quindi in questo ultimo bimestre dovremmo raggiungere quella che è la fine del ciclo, la fine del ciclo della periodizzazione. Questi ultimi due mesi sono gli ultimi due dell'emiciclo, che poi sono sei mesi. Un ciclo può essere raddoppiato oppure è cambiato ancora. E quindi B, fase finale. Qui, alla fine della B, noi dovremmo, se siamo già allenati, notare delle differenze, perché in sei mesi, se le cose sono fatte bene e se l'integrazione è stata corretta, dovremmo già vedere degli ottimi, non dei buoni risultati. Immaginate se raddoppiamo la cosa e la rifacciamo per due volte, oppure se la variamo a seconda delle nostre necessità, periodizzandola più o meno con queste caratteristiche. La parte B mi dice un'altra cosa, e per quanto mi riguarda è così. Insomma, poi è chiaro che potete non essere d'accordo, però io vi sto facendo una proposta, visto che me la state chiedendo a voce alta. La parte B è la parte che alla fine, quando andremo poi a misurarci allo specchio e forse, forse sulla bilancia perché ci tiene molto, è quella che mi dice che io sui gruppi grossi, e ripeto ancora per la terza volta, che sono tutti all'infuori dei bicipite e tricipite, per i gruppi grossi io farò 25-28 serie con 12-15 ripetizioni e un tempo di recupero massimo stavolta, non massimo di 60 secondi, ma 60 secondi per chi non è moltissimo allenato, altrimenti possono essere anche 45, lo vedrete da soli che arrivano, nonostante i pesi. Ricordami sempre di citare dopo i carichi, perché altrimenti io ancora mi sto dimenticando di parlare di carichi. Per i gruppi piccoli, invece, noi ci riporteremo sulle 15-16 serie, se uno non ha caratteristiche particolari, vi raccontavo in passato, vi ricordate, di chi dopo qualche serie 5-6 di bicipiti o tricipiti deve staccare perché gli esplodono per predisposizione, allora lì uno si regola, dice ok, mi faccio comunque le mie 8-10 serie, se riesco a finire perché sono già pieno, e mi va bene. In altri casi 15-16 serie, le ripetizioni rimarranno sulle 12, essendo gruppo piccolo, tempo di recupero rimaniamo sui 60 secondi, salvo per gli squat. Le gambe va bene 60 secondi, qualsiasi altro esercizio, leg extension, leg curl, per gli squat in particolare rimaniamo sui 120 secondi, non me la sento di andare sotto, perché altrimenti dovreste sacrificare, anche se siamo in una fase di alto volume, altissimo volume.